C'è chi è avalso dai domiciliari per raggiungere i centri di assistenza fiscale e presentare domande per il reddito di cittadinanza e chi ha presentato distanza mentre risultava addirittura detenuto. Sono 298 i soggetti che avrebbero percepito il reddito di cittadinanza in maniera indebita che sono stati denunciati dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. L'attività investigativa effettuata sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli Nord e nell'ambito della consueta collaborazione con l'Inps dai finanziari del gruppo di fratta maggiore ha individuato centinaia di domande irregolari presentate dai soggetti residenti nell'area nord della provincia di Napoli. È stato infatti rilevato per il periodo settembre 2020-maggio 2021 che molte domande comprendevano persone destinatari di provvedimenti giudiziari che per legge fanno venire meno i requisiti per il reddito di cittadinanza. Il danno è stato quantificato dall'Inps di Afragola in circa 2,5 milioni di euro mentre per i responsabili è scattata la revoca del sussidio e la denuncia all'autorità giudiziaria per truffa ai danni dello Stato. Dai successivi approfondimenti sulle singole posizioni inoltre le fiamme gialle hanno individuato anche otto richiedenti che oltre ad avere indebitamente percepito somme non spettanti sono addirittura evasi dagli arresti domiciliari per raggiungere i centri di assistenza fiscale e presentare domande per il reddito. In un centro di assistenza fiscale di fratta maggiore è stata recuperata a distanza di un soggetto che nel momento in cui risultava aver presentato la domanda in realtà era detenuto presso il carcere di Santa Maria Capoavetere.